Mi gira la testa, stop un attimo, wow, dico se non, bah, un'altra, e sono, wow, senza morire. Mi dici come va così col microfono? Ho fatto un rutto, ma... Sto sondita? Ronde. Sto cazzo. Senza morire. E vado. Oddio, ma perché l'ho detto di provarlo dall'altro lato? Io non l'ho mai fatto dall'altro lato. Una questione di sfida.